C'è stato un libro che nella mia formazione ad adolescente è stato importante, direi un libro decisivo, e fu il Gattopardo. Gattopardo è un libro che mi insegnò un altro modo di leggere la storia, per capire come accanto alla retorica del risorgimento ci può essere anche un altro modo di osservare quei fenomeni. E poi fu un libro coraggioso, fu coraggioso pubblicarlo, coraggiosa la scelta di Feltrinelli, quel libro non piacque neanche alla parte politica in cui militava Feltrinelli e fu un libro che dimostrò come i veri uomini liberi, come era Feltrinelli, non hanno paura anche di andare controcorrente. Era già capitato l'anno precedente, Feltrinelli aveva pubblicato il dottor Zevago di Pasterac, un altro libro che ovviamente non piacca la sua parte politica.